Non vedo l'obiezione, la decisione è quindi adottata. rappresentante slovena che ha parlato a nome dell'Unione Europea, un accordo che integri il regolamento sanitario internazionale e altri meccanismi esistenti per fornire al mondo un'architettura sanitaria globale più coerente. Il primo incontro di questo gruppo di lavoro si svolgerà entro il primo marzo del 2022. La decisione che abbiamo appena preso è una vittoria per tutti noi, per il multilateralismo e la salute globale, continua Pipan, ma richiederà buona volontà da parte di tutti per la sua rapida attuazione. Abbiamo dato al mondo un segnale che possiamo impegnarci ad agire. Abbiamo stabilito di tracciare un percorso chiaro, ma che allo stesso tempo preveda flessibilità se necessario.